Quanto ti fa guadagnare un cliente? Questa è una domanda tra bocchetto perché molti imprenditori quando gliela fai ti rispondono ad esempio un ristoratore ma il mio scontrino medio è di 50 euro o lui chiede un fisioterapista il mio faccio pagare un massaggio 40 euro, 60 euro è quello che è Qual è il punto? Che se hai seguito le ultime due pillole quindi quella sul traffico e quella sul costo di acquisizione cliente sull'importanza di pagare un cliente allora è importante non limitarsi a sapere quanto il cliente paga una volta ma noi dobbiamo sapere quanto il cliente paga nell'arco della sua vita altrimenti come possiamo sapere se quanto stiamo investendo per acquisire un cliente è un prezzo alto oppure no se speriamo di guadagnare abbastanza direttamente dalla prima vendita come era tanti anni fa oramai allora partiamo veramente nelle direzioni sbagliate perché oggi, l'abbiamo detto ieri, chi può permettersi di pagare di più un cliente vincerà qual è il punto? Ti faccio un esempio banale e stupido offri la cena come ho detto ieri bene, il cliente viene e tu non guadagni nulla magari ti inventi qualcosa dove il bere non è compreso quindi un minimo riesce a compensare non si perde di niente perfetto, ok qual è il punto? che il cliente, se si è trovato bene, tornerà da te costantemente nel tempo e a questo punto, in base al numero di volte in cui il cliente torna potrai capire effettivamente quanto ti farà guadagnare una volta che hai identificato questo o perlomeno hai, diciamo, un'idea generale allora potrai capire quanto puoi permetterti di investire per acquisirlo ma senza questo dato non puoi assolutamente farlo ed è veramente difficile oggi riuscire a creare un sistema di marketing una comunicazione con un'offerta tale che paghi meno di quello che il cliente ti fa guadagnare la prima volta di fatto la prima vendita andrà pressoché quasi sempre in perdita e questo è importante da considerare perché se noi partiamo dal presupposto che dobbiamo guadagnare da subito diremo, eh il marketing non funziona no, semplicemente il mercato è molto più competitivo ed è molto più difficile e costoso prenderlo sconosciuto e trasformarlo in un cliente o in un potenziale cliente per questo che il costo a volte può essere, anzi spesso è, superiore a quello che il cliente ci fa guadagnare durante la prima transazione ma questo non significa che il cliente non ci stia facendo guadagnare semplicemente ci farà guadagnare nel tempo quindi oggi rifletti su questo e chiediti quanto ti sta facendo guadagnare un cliente nell'arco della sua vita? pensaci attentamente, fai un'analisi, studiati i numeri a quel punto chiediti quanto posso investire, quanto posso permettermi di investire per acquisire un cliente che non necessariamente deve essere un valore altissimo quindi investo oggi perché tanto tra 4 anni sarò rientrato dall'investimento no, hai un business e quindi hai dei flussi di cassa da rispettare quindi scegli un periodo di tempo che sia sufficientemente sostenibile per te e allora da lì puoi stimare e iniziare a fare un'offerta sapendo che per un determinato cliente puoi spendere quella cifra con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo, tantissimi anni fa agli albori di internet sicuramente prima ancora è ancora più facile quel è il punto che una volta veramente bastava fare pubblicità costava talmente poco perché la concorrenza non c'era per riuscire a vendere guadagnando da subito oggi ci sono le situazioni in cui questo è possibile assolutamente sì semplicemente è molto più difficile è molto più raro, la competizione è altissima e quindi dobbiamo entrare nell'ottica che per comprare un cliente dobbiamo fare un investimento ma una volta entrate nell'ottica e una volta messe in moto la macchina questo non sarà più un problema perché ok oggi perdiamo 1000 euro ma li riprendiamo il mese prossimo dal mese dopo ancora ogni mese ci entrano 1000 euro in più esempio banale le cifre sono simboliche ma la logica è proprio questa quindi non limitiamoci a considerare il singolo acquisto ma consideriamo il cliente nell'intero arco della loro vita e ricorda anche che i clienti non sono tutti uguali perché ci saranno clienti che verranno da te due volte l'anno chi verrà da te tutti i mesi eccetera ovviamente dipende da business a business ma la logica è la stessa quindi considera che i clienti non sono tutti uguali quindi è importante dividerli in categorie con questo è tutto davvero e ti saluto ciao